Per Pasqua vi aspetta una colomba tradizionale e meravigliosa. Come difficilmente avete avuto modo di assaggiare. È infatti quella firmata da Stefano Lorenzoni, lievitista della pasticceria Arte Dolce di Monte San Savino, in provincia di Arezzo, la colomba pasquale più buona d'Italia. La sua creazione si è giudicata il primo posto nella quarta edizione di Divina Colomba, concorso che si pone ogni anno l'obiettivo di valorizzare la produzione artigianale del dolce tipico pasquale, con particolare attenzione al rispetto del disciplinare di legge e all'utilizzo del lievito madre. Il segreto è uno solo, avere un lievito madre fatto, autoprodotto, dove viene trenuto meglio di un figlio, siamo attentissimi alle temperature, le correnti d'aria, gli sbalzi, anche d'umore a volte. E dopo c'è la vaniglia dei bacchi del Bourbon, c'è un arancio calabrese candito, c'è il burro d'Ardenne che è una zona del Belgio dove viene prodotto questo burro su 44 comuni. È una DOP, c'è uno zucchero che viene macerato con le bacche di vaniglia per tutto l'inverno, in modo che prenda il profumo della vaniglia. Insomma, il meglio che il mercato ci può offrire di prodotti per fare la colomba. A parte il bene che fa allo spirito, all'anima, essendo un prodotto fatto con lievito naturale, dentro, il lievito naturale, essendo un prodotto vivo, ha già fatto una, tra virgolette, digestione, per cui gli enzimi che sono all'interno del lievito naturale hanno già scisso le catene delle sostanze che sono all'interno della colomba, per cui è molto più leggera, molto più digeribile, quindi per cui è ancora più salutare e comunque più comodo da mangiare rispetto a un lievitato non fatto con lievito naturale. Grazie a tutti.